La vocazione e la curiosità di fare un'esperienza nel mondo del cinema. Al Teatro Agusteo di Salerno cercheranno donne, uomini e bambini come figuranti per un film d'epoca, le cui riprese saranno girate tra settembre e ottobre nella città di Salerno. In totale si cercano 300 persone, donne e uomini tra i 18 e i 70 anni, bambini tra i 4 e i 12. Per le persone adulte è necessario, poiché si tratta di un film d'epoca, non avere tatuaggi o segni che non sarebbero conciliabili con i costumi e i modi del tempo, compresi interventi di chirurgia estetica. Il provino consiste in una serie di fotografie, non è richiesto alcun tipo di esperienza, anche se tra le persone in fila c'è chi è già mosso dalla passione per la recitazione. Requisito essenziale era residenza a Salerno e nei comuni vicini. La produzione assicura anche una piccola retribuzione. A dire il vero io faccio teatro, quindi... E anche il caldo vi scoraggia? No. Diciamo di no, ho preso come un'esperienza divertente, una novità. E' mai qua, incuriosita? Era una giornata diversa, siamo interessati perché ci piaceva, perché era un film d'epoca, a me mi piacciono i film d'epoca. Ho visto che c'era il casting da fare, mi fa piacere partecipare. La sua prima esperienza, il suo primo tentativo? Sì, assolutamente sì. Anche tu? Sì, anche se da bambina ho fatto spettacoli, ma erano per la scuola, quindi non hanno avuto grande importanza come questo. Sei attratta da questa idea? Sì, sono stata attratta quando ho letto l'Artiv, l'annuncio, dal tema del film, ovvero film d'epoca, che sono molto belli questi tipi di film. Ok, siete quasi arrivate, posso chiedere da quanto tempo state aspettando? Vabbè, io sono arrivata un po' in anticipo, alle 8 e 30, però stiamo aspettando ormai da un'oretta, un'oretta e mezza. Che cosa la incuriosisce di questa esperienza? Beh, sicuramente è una cosa bellissima partecipare a questi casting. Poi io già, diciamo, nel mondo del teatro, faccio teatro, sono una ballerina, quindi mi incuriosisce anche il cinema. Prendo la fortuna, può essere che mi vedano qualcuno importante, quindi faccio almeno una carriera nel campo del cinema, può essere, tra speranza.